giulio collalto soprannome il pazzo di limbiate luogo omicidi italia periodo omicidi 1976 1979 numero vittime 2 modus operandi soffocava le sue vittime catture e provvedimenti ergastolo giulio collalto nasce a roma nel 1953 viene abbandonato dalla madre a soli tre anni e non conoscerà mai il padre la sua infanzia è stata molto difficile e segnata solo dalla violenza è sicuramente il caso più emblematico di disagio infantile epilettico e ritardato viene messo in collegio a grotta ferrata in provincia di roma fino all'età di 14 anni si ritiene che proprio in quel collegio collalto abbia accumulato la rabbia che poi sfogherà sulle proprie vittime alla fine degli anni sessanta scoppia un terribile scandalo proprio nel famigerato collegio di santa rita grotta ferrata sembra infatti che una sadica direttrice suor colomba al secolo maria diletta pagliuca costringa i bambini ad atruci servizie collalto ricorda ci costringeva a mettere il viso nei nostri escrementi ci legava a termosifoni ci incatenava al letto per farci stare fermi e le botte erano all'ordine del giorno tanto da lasciarci segni permanenti i segni permanenti di cui parla collalto che effettivamente ancora oggi ha dei segni lasciati dalle bastonate su tutto il corpo purtroppo non sono solo fisici ma soprattutto di natura psichica la mente del piccolo giulio viene sconvolta definitivamente portandolo ad avere un carattere troppo timido e a temere il contatto con gli altri quando finalmente lascia grotta ferrata giulio ha ormai 14 anni e si trasferisce a mombello nell'ospedale psichiatrico in provincia di milano dove trascorre due anni prima di fuggire ritrovato a milano viene ricoverato in un osocomio ma fugge anche da lì viene quindi accolto in casa da un commerciante depravato che lo costrinse a rapporti omosessuali nel 1971 giulio viene ritrovato sporco e affamato in un parco da un altro commerciante di 50 anni che decide di aiutarlo trovandogli un lavoro e una casa con l'alto si affeziona molto a quest'uomo lo chiama addirittura zio il commerciante però lo fa di nuovo ricoverare al imbiate dove dopo un periodo di cure giulio viene dimesso con l'improbabile diagnosi di piena sanità mentale con l'alto è in realtà un uomo turbato un disadattato che si nasconde dietro un paio di spessi occhiali da miope che non riesce a relazionarsi con gli altri che soprattutto non ha amici che vuole solo stare con i bambini ha inoltre una sessualità repressa è un pedofilo e comincia a tentare approcci coi minori la sua prima vittima è roberto auglia 10 anni conosciuto durante uno dei ricoveri in ospedale i due secondo le testimonianze raccolte erano molto amici giulio frequentava la casa di roberto sicuramente li accomunava il disagio che entrambi provavano nei confronti degli altri il 10 febbraio 1976 mentre a casa di roberto con l'alto cerca di violentare il bambino che però si oppone viene soffocato con un cuscino prima di scappare l'assassino cerca di inscenare un suicidio poggiando la testa di roberto nel fornello della cucina il tentativo di depistaggio non riesce e con l'alto viene arrestato grazie alle testimonianze dei vicini che lo hanno visto salire in casa di roberto e soprattutto grazie alla testimonianza della madre del piccolo durante il processo con l'alto tenta il suicidio ma viene comunque condannato a sei anni di carcere e tre di casa di cura per omicidio preterintenzionale dopo un solo anno viene rimesso in libertà perché ritenuto si minfermo di mente ma non pericoloso con l'alto passa così da un ospedale all'altro fino a quando viene affidato ad una famiglia di cremona qui frequenta l'oratorio ed è a contatto con molti bambini che sembrano stare molto bene con lui fino a quando il parroco chiede alla famiglia di con l'alto di non mandarlo più in oratorio giulio trova quindi lavoro in una troupe televisiva partecipando ad uno sceneggiato come comparsa e facendo anche il custode dei costumi e dei macchinari i bambini conosciuti in oratorio si fidano di lui e spesso vanno con lui a vedere i costumi ottocenteschi che servono per lo spettacolo il 15 agosto 1979 luca antonazzi di sette anni viene adescato da collalto e portato in ospedale in disuso che fa da deposito alla troupe televisiva con l'intento di molestarlo sessualmente anche questa volta la vittima si ribella a collalto che finisce per strangolare il bambino nonostante i disperati tentativi di nascondere il corpicino sotto un montacarichi giulio viene subito arrestato perché qualcuno aveva sentito le grida del bimbo provenire dall'ospedale in disuso collalto viene arrestato e messo alle strette confessa il 4 dicembre 1981 viene condannato all'ergastolo negli anni 90 giulio collalto ha richiesto la grazia che però gli è stata respinta nel 2005 i giudici di milano hanno aperto un fascicolo su di lui e hanno cominciato a considerare l'evenienza di scarcerarlo per buona condutta l'ennesimo caso di mala giustizia italiana scritto da sara di marzio trasformato in audiolibro dall'eresiarca grazie per l'ascolto grazie a tutti grazie a tutti